beccati nel backstage ma se zelic time invece fosse un piatto una pietanza cosa sarebbe ma non si parla con la bocca piena però la casola un piatto ricco ma un piatto anche dove si può divertire con gli amici un piatto di cina di rata buonissima ma se zelic time non fosse un piatto la frizzata e carciofi buon dopo che si è ancora cominciato aaa ah ahaa per te cosa sarebbe la puttanesca è autobiografico così ma no le lasagne perché piacciono a tutti come la pizza e la matriciana anche se i dolci non sono male è un pollo arrosto eh dai posso avere un amaro io la pizza perché proprio la pizza la puoi dividere con gli amici puoi gustarla in compagnia quindi no? Come una puntata di? Quella è la puntata. Se Zellig Time fosse un piatto? Una macedonia. Una macedonia e perché una macedonia? Perché c'è tanti frutti di tutti i gusti. E tu che gusto sei? La fai dai dai. La melanzana e la parmigiana. Con due g. Ma con una. Però dipende da quanto parmigiano metti. Poco parmigiano? Una g. Tanto parmigiano? Tre g. Se metti il pecorino sono melanzane alla pecorina con Emanuela Bollani. Rusticiada, un piatto tipico milanese che nessuno fa più a base di frattaglie. Noi siamo delle frattaglie? Siamo scarti resi buoni da ricette fatte bene. Il pollo alla Livornese perché è Zellig nascia a Livorno come tutti sanno. Chi lo sa? Tutti gli italiani sanno che è Zellig nascia a Livorno e quindi io prendo ispirazione con la ricetta tipica di Livorno è il pollo alla Livornese. Niente. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Non li crede. Non li crede. Peccati nel backstage. Porca m. Io non l'ho. Non l'avevo considerato. E quindi lui fuori dalle talle. Grazie Dio. Prego. Peccati nel backstage. Silvio Cavallo. Fausto un po' solo in oro. Queste due teste in una sola trasmissione. È possibile? Sì. È possibile solo qui e su Medicina33. È ridículo. Peccati nel backstage. Andiamo a vedere com'è il pubblico. Com'è? Casa com'è? Ho casa tanti. Guarda. Signora si sieda. Il bambino. A dormire. Dopo carosello. Sono anziano. Ok. Peccati nel backstage. Dove? Nel backstage. Vuol dire nei camerini, dietro le quinte. C'è tanta preparazione dietro i pezzi dei comici. Vedete Max Sangioni come si sta preparando. Sta facendo arachiri addirittura. Niente lasciato al caso. Cioè io lo lascerei a casa. Ma lui invece non lascia niente al caso. Fiori nei capelli sì. Fiori nei capelli no. C'è tensione nei camerini per la mise di Polita Baldini. Lo scopriremo solo tra poco quando inizia la puntata. Possiamo parlarne dopo un momento. Ok. No. Scusa. 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 Peccati nel backstage. A chi consigli stasera la visione di Zelig Time? A tutti coloro che stanno mangiando una caramella come me. Perché Zelig Time è dolce e frizzante come questa caramella. Ricomincia Zelig Time tra pochissimo. Tra pochissimo. Mi raccomando. Consigliato a tutti quanti voi che state seguendo. Non cambiate canale. Chi cambia canale è un burfaldino. No. Basta.